E' l'astrattismo vitreo il tema della nuova mostra personale del fotografo Aretino Eugenio Piccioli. Da sempre attento alla forma e al colore, l'artista si dedica questa volta alla meraviglia della trasparenza. Socio attivo del fotoclub La Chimera ormai da molti anni, Eugenio Piccioli da sempre porta quel contributo artistico fondato sullo studio della luce con tagli fotografici che solo lui contraddistingue. La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 18 di aprile presso la sede del fotoclub La Chimera di Arezzo. Grazie a tutti.